Eccolo le donne che vincono, quelle che non si fanno sconfiggere dalla vita e vanno avanti, più forti di prima e più belle. Sono 250.000 le lavoratrici che ogni anno subiscono un incidente che le rende invalide a vita. C'è chi ha perso una mano, chi l'intero braccio, chi entrambe le gambe. Si sono fatte fotografare accanto a Miss, giovani e belle, almeno quanto loro. Per dire che resistere si deve e si può, ma anche per denunciare uno stato delle cose che non va, a partire dal problema della ricollocazione professionale. E questa è la storia di Monica. La mia storia è capitata che avevo 24 anni. In un centro carni ero l'addetta per preparare i prontacuoci, per cui polpette, polpettoni. Premetto che insomma io ho lavorato due anni, per cui sapevo insomma preparare. Non è che, è solamente che in quel reparto il tritacarne avevano tolto la sicurezza. Questo è sicuramente per produrre di più, per sbrigarsi di più. Per tritare un po' di macinato ho perso completamente la mano. Sono entrata in ospedale e mi sono svegliata dopo che non avevo più la mano destra, per cui ho dovuto rimparare come da bambina, riscrivere con la sinistra, svolgere tutto con la sinistra, trovare il metodo giusto per allacciarmi una scarpa. Non ho più trovato lavoro da quando io sono anche iscritta, però purtroppo l'opportunità di lavorare non c'è. Noi sappiamo che già una donna, già nell'inserimento lavorativo, già viene penalizzata per le varie problematiche, che già si è sposata, si è figli, immaginiamo insomma con un infortunio come il mio. Mi chiamano e dopo passano gli anni, adesso io ne ho 41, certo tra un po' andrò verso i 45, non lo so, io non troverò mai più lavoro. Dietro le foto firmate da Tiziana Luxardo c'è un'iniziativa parlamentare che vuole mettere al centro delle priorità del nuovo governo i volti e le storie di queste donne forti e vincenti, che di farsi chiamare invalide proprio non hanno voglia. Abbiamo pensato che mettere, diciamo, qui al Senato le loro immagini e valorizzare questo calendario fosse riconoscere da parte delle istituzioni questa problematica. Come senatrici, insieme alla senatrice Colli, abbiamo presentato poi una proposta di legge che sostiene gli interventi a favore delle donne colpite da invalidità, migliorando la normativa vigente e vedendo non solo le donne lavoratrici sul luogo di lavoro, ma anche le donne lavoratrici nel mentre che svolgono il loro lavoro domestico, il doppio lavoro, la doppia funzione.